ciao amiche ciao amici è un grande piacere avere ospite oggi Carlo soprattutto per la felicità di Claudio ci siamo incontrati su youtube qualche mese fa e abbiamo deciso di fare un video eravamo indecisi sull'argomento abbiamo deciso di parlare di quello che ci manca dell'italia o comunque di come noi viviamo la distanza dall'italia Carlo benvenuto grazie Simone dell'ospitalità sono felicissimo di fare un video con te finalmente so che abbiamo un paio di studenti in comune almeno e sono anche contento di conoscerne tanti nuovi almeno un paio di studenti in comune io penso che siano anche di più c'è qualcuno che ogni tanto resta silenzioso invece c'è qualcuno che commenta tutti i video però a noi fa piacere sia per gli studenti silenziosi sia che per quelli che lasciano commenti o ci scrivono email o robe del genere esatto è proprio così alla fine noi siamo qua con la nostra passione insegnare l'italiano è quello che ci piace fare nel tempo libero per adesso speriamo che nel futuro magari possa diventare una professione a tutti gli effetti e facciamo quello che ci piace fare per voi bene Carlo io sono davvero curioso perché sono stato nella tua stessa situazione cioè vivevo fuori e adesso sono tornato in Italia per un anno e quando ero completamente fuori quindi quando ero in Germania in Svizzera o in Portogallo avevo una sensazione di malinconia di... mi mancava casa tu come la vivi? io so che tu sei in Lussemburgo no? no tutti gli amici si confondono sempre in realtà lavoro in Liechtenstein che è un altro paese piccolissimo per questo motivo viene spesso confuso con il Lussemburgo ma non è neanche troppo lontano dal Lussemburgo in realtà è un paese molto piccolo di circa 35.000 abitanti che sta tra l'Austria e la Svizzera in realtà io vivo in Austria perché essendo europeo è più facile vivere in Austria che è Unione Europea mentre il Liechtenstein e la Svizzera sono fuori dall'Unione Europea e quindi c'è un pochino di burocrazia in più da fare però attraverso la frontiera ogni giorno quindi dall'Austria a Liechtenstein per recarmi sul posto di lavoro e torno a casa in Austria ogni sera ma tu hai degli studenti di piazza square del Liechtenstein oppure no? ma zio ci sono 35.000 persone in Liechtenstein beh beh su 35.000 persone uno allora il nostro obiettivo per il 2021 è avere almeno 5 studenti di lingua italiana che vengono dal Liechtenstein va bene? ti dico che è più facile che l'Italia vinca i prossimi mondiali che trovare 5 studenti in un paese così piccolo di solo 35.000 persone top va bene allora facciamo che speriamo per l'Italia e speriamo che l'Italia vinca i mondiali va bene facciamo così allora Carlo parlami un po' della tua... dei tuoi sentimenti verso casa di... se ti manca casa oppure no? cosa pensi? sì prima di cominciare in realtà tu stai vivendo a Milano adesso no? sì sì io sono a Milano e Milano è la mia città è la città in cui sono cresciuto quindi magari parlando con te posso sentirmi un po' più a casa sì 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 può essere manco da Milano ormai da circa 4 anni ho vissuto quasi un annetto in Spagna quando ancora studiavo all'università come Erasmus quindi ho fatto un semestre all'università... all'università de Cantabria in una regione del nord della Spagna in cui ho studiato ingegneria meccanica o ingegneria industrial come si chiama in Spagna e dopo essere tornato dalla Spagna ho vissuto ancora a Milano giusto un paio di mesi in cui dovevo fare le carte dovevo sbrigare un po' di burocrazia per trasferirmi dove vivo adesso al ritorno della Spagna infatti avevo trovato uno stage in una multinazionale in Liechtenstein di cui abbiamo appena parlato e mi sono trasferito nel 2018 era marzo 2018 da allora vivo qui in Austria in realtà non è tanto lontano dall'Italia la situazione dal punto di vista geografico è abbastanza comoda perché con tre ore e mezza di auto sono a Milano e quindi posso vedere la mia famiglia il mio cane che tra l'altro in questo periodo sta qui da noi i problemi iniziano ad arrivare con il covid perché con il covid è almeno due frontiere da attraversare devo attraversare la frontiera tra l'Austria e Liechtenstein poi tra Liechtenstein e Svizzera non c'è frontiera però c'è un'altra frontiera tra la Svizzera e l'Italia capisci che l'incertezza aumenta molto quando c'è una pandemia globale che blocca gli spostamenti allora diciamo che quindi prima del covid tu non avevi questa sensazione di non poter tornare a casa primo penso perché Milano è ben collegata no e secondo perché eri comunque a portata di auto quindi tre ore, tre ore e mezza arrivavi a casa mentre nel mio caso quando io ad esempio ero in Germania o in Portogallo sapevo che dovevo prendere due aerei e poi dovevo arrivare a Taranto quindi dovevo arrivare all'aeroporto di Bari e poi andare a Taranto quindi è un po'... sì è una cosa un po' diversa però ecco quando c'è stata la pandemia e non ci si poteva muovere in generale avevo un po' questa sensazione del vabbè non si può fare niente mi sentivo un po' più sollevato no? invece quando non potevo muovermi per motivo di lavoro mi sentivo un po' del tipo ma vale la pena quello che sto facendo? cioè io sto perdendo del tempo con la mia famiglia per fare questo lavoro era un po'... era un po' come dire avevo sempre questo dubbio no? tra il restare fuori a lavorare oppure il tornare a casa dalla mamma e papà tu non hai vissuto questa cosa ma in realtà l'ho vissuta molto di più in Spagna dove anch'io ero a distanza di due aerei perché da Santander dove vivevo io bisognava prendere un aereo per Barcellona poi da Barcellona si arrivava a Milano che quanto l'ho vissuta adesso invece perché come hai detto sono abbastanza portata d'auto e volevo dire una cosa nonostante siamo a tre ore e mezza di distanza di auto in realtà è completamente un altro mondo qui dove mi trovo e questo sia a livello geografico quindi io arrivo dalla grande metropoli da Milano con più di un milione di abitanti i grattacieli, i palazzi alti e adesso vivo in un paesino dell'Austria tra le montagne infatti i miei amici fanno ancora le battute su Heidi il famoso cartone animato della ragazzina che viveva tra i monti e sì quindi per me è stato un cambiamento totale venire a vivere in Austria più per questo tipo di aspetti qua mi manca la vita della città che però fino a prima del covid riuscivo a raggiungere quasi ogni fine settimana quindi in realtà non ho vissuto tantissimo la distanza quello che sì ho vissuto molto è lo shock culturale anche perché passo da un mondo con mentalità e usanze italiane e adesso non voglio approfondire troppo su questo aspetto ad un mondo puramente germanico quindi Austria, Svizzera, Germania qui le persone sono innanzitutto molto più precise molto più attente alle regole se vuoi e non voglio entrare dentro gli stereotipi però te ne accorgi anche dalle piccole cose di ogni giorno dal come funziona il buttare la spazzatura e raccogliere la spazzatura nelle varie regioni d'Italia tra l'altro la mia famiglia è siciliana e noi andiamo in Sicilia almeno una volta all'anno e conosco bene come funzionano le cose sia nel nord Italia che nel sud Italia e adesso viverle qua addirittura fuori dall'Italia si nota molto il cambiamento che non è necessariamente un cambiamento in meglio può essere anche un cambiamento magari in peggio perché alla fine in Italia avremo i nostri problemi le persone si lamentano tanto però vivendo all'estero posso dire e ho provato la Spagna, ho provato l'Austria posso dire pochi paesi sono vivibili come l'Italia in Italia ci si può lamentare del lavoro e di tanti aspetti però si vive bene quindi Carlo io dopo questo riassunto che mi hai fatto tra lati positivi, lati negativi o comunque di differenze non parliamo di lati positivi e negativi mi viene da chiederti quali sono i tuoi progetti no? qual è la tua proiezione tra qualche anno? tu pensi di stare a Milano, di stare in Sicilia oppure di stare in qualche parte d'Europa o di andare a trovare tutti i tuoi studenti in giro per il mondo? cosa pensi di fare? guarda per me la cosa più importante al momento essendo giovane ho 26 anni la cosa più importante è la crescita personale che può essere crescita sia dal puro punto di vista personale privato ma anche crescita sulla sfera lavorativa quindi una crescita dal punto di vista della carriera il mio prossimo step è già stato deciso andrò in America, a Dallas, Texas e mi trasferirò ad aprile dell'anno prossimo in realtà il trasferimento doveva già accadere quest'anno nel 2020 ed è stato spostato più in là solo a causa della pandemia, del covid e bene, questo sarà il mio prossimo step quindi mi trasferirò in America per almeno un paio d'anni il limite di anni che posso spendere in America è dettato più che altro dalla visa, dal visto che inizialmente per questo tipo di scambi all'interno della stessa azienda dura circa tre anni per cui penso di spendere i miei prossimi tre anni in America il motivo per cui lo faccio è puramente legato alla crescita personale quindi voglio andare in America non perché necessariamente sia un mondo migliore ma perché voglio imparare, voglio vedere la cultura e sai, a volte quando viaggi per turismo non riesci ad apprezzare tante cose che invece apprezzi quando ti trasferisci per un determinato periodo e vivi proprio la mentalità della gente anche perché lavorando in un posto anche lavorando tre mesi o quattro mesi comunque hai una conoscenza abbastanza superficiale, no? di una realtà in generale mentre quando poi ti trasferisci in quel posto e sai che ci rimani per due o tre anni quello è un modo per andare un po' più a fondo quindi diciamo da una parte per chi vuole davvero toccare con mano la cultura italiana vi invitiamo a visitare o lavorare in Italia per alcuni anni mentre per te è in bocca al lupo in America sarà una bella esperienza però il punto di vista positivo è che potrai portare in giro gli studenti della lingua italiana anche in America, no? ed è esattamente questo il modo in cui è nato il canale Piazza Square cioè Giulia ed io siamo entrambi degli insegnanti io insegnavo come hobby in una scuola qui in Austria mentre Giulia insegna come lavoro a tutti gli effetti italiano ed inglese e l'idea era proprio quella siccome entrambi viviamo all'estero e comunque già insegniamo o abbiamo dei legami con l'insegnamento amiamo la nostra lingua e vorremmo diffonderla il più possibile l'idea era quella di una volta in America magari anche aprire una scuola o non si sa quale progetto poi ovviamente le cose succedono senza nemmeno pianificarle e questo aspetto di insegnare la lingua italiana all'estero unito al fatto che io sono uno un po' creativo quando ero più giovane avevo un canale YouTube di musica e ho sempre un po' bazzicato come dire, sono sempre stato un po' dentro queste cose fare grafiche, fare video, montare, aggiustare l'audio, i suoni queste due cose insegnare l'italiano all'estero essere creativo, unite alla pandemia è stato il colpo di genio se vogliamo ma anche una scelta abbastanza prevedibile se adesso vai a vedere tutti questi aspetti ed era all'inizio una cosa un po' nata per gioco poi grazie anche al supporto di tanti studenti che apprezzano il nostro lavoro stiamo continuando e abbiamo grandi progetti per cui non ti so dire a lungo termine dove mi vedo dal punto di vista geografico se mi vedo in Italia sicuramente da qua ai prossimi 7-8 anni vorrò viaggiare, vivere all'estero per crescere tornando in Italia a godermi le vacanze e poi chissà magari finire la mia carriera in Italia quindi ecco una domanda che avevo... avevo pensato e che è una cosa che io stesso vivo su... vivo in prima persona no? vivo su di me è se tu potessi fare il tuo lavoro o quello che vai a fare in America se tu lo potessi fare nella tua città quindi a Milano oppure in Sicilia dai tuoi tu resteresti in Italia o andresti fuori? perché nel mio caso se io potessi fare ricerca sulla neuropatologia a Taranto io lo farei a Taranto probabilmente anche per uno stipendio diverso prenderei anche meno però preferirei essere nella mia città natale città natale... nella mia città di nascita e poter essere a contatto anche con i miei parenti quindi vederli invecchiare o far sì che io li possa vedere anche nella nostra quotidianità non so se tu hai anche questa sensazione oppure no perché prima anch'io ero proiettato verso il... ma sì vado in Germania, vado in America, vado in Giappone, vado dappertutto però adesso sono un po' più rallentato no? sono un po' tornato con i piedi per terra non ho più questa... questo grande motore del voler andare fuori beh l'aspetto della famiglia senz'altro è quello che mi fa più paura anche se penso alla mia prossima esperienza in America poi specialmente in un periodo in cui viaggiare, prendere aerei sta iniziando ad essere non più tanto normale sai rimanere bloccato qui in Austria dove comunque sia so che caso peggiore posso prendere la macchina e guidare tre ore arrivare a Milano è un qualcosa ma essere bloccato da tutt'altra parte del mondo lontano dalla famiglia sai le chiamate su whatsapp, le videochiamate aiutano un po' però non riescono a sostituire del tutto i tanti aspetti della quotidianità che sono belli da vivere con la famiglia, no? senti a proposito di videochiamate, whatsapp e facetime per caso hai notato delle differenze nel modo di rapportarti con i tuoi familiari in generale? perché io sono riuscito anche a sentire mio papà in videochiamata ed è stato già un record e anche mia nonna sì, questa era esattamente la storia divertente che volevo condividere devo dire che da quando c'è stata questa pandemia ho visto molto sviluppo tecnologico anche per una certa generazione, diciamo che normalmente non era così vicina a queste tecnologie, no? quindi anch'io adesso riesco a fare le videochiamate con mia nonna ed è diventata una cosa del tutto normale, no? sai, fa un po' ridere perché a volte se non sei nato con la tecnologia nelle tue mani fai quelle cose che fanno ridere ad esempio rispondere così con il telefono qua sotto e quindi tu vedi il mento della persona in primo piano però sì, ci sono stati tanti anche tante cose dire buone è una parola forte quando si parla di coronavirus e queste cose però ci sono stati degli sviluppi sicuramente positivi per la tecnologia in generale sì sì, diciamo che non è tutto da buttare tutto quello che è successo non va cestinato nell'immondizia va bene Carlo, io ti ringrazio programmi per Natale? torni in Italia quando? il 19, il 20? sì, vorrei tornare il prima possibile anche perché dal 20 chiudono le regioni poi il 25, il 26 non si può nemmeno cambiare comune e per noi è un po' una sfida, una challenge essendo che Giulia ha la famiglia Trieste quindi in Frioli Venezia Giulia mentre io ho la famiglia Milano, quindi Lombardia e noi dobbiamo cambiare sia comuni che regioni il piano è passare il Natale con entrambe le famiglie magari farò un video più in là raccontandovi della multa che mi sono preso va bene speriamo di no, speriamo di no allora io spero che voi possiate passare il Natale insieme invito gli studenti del mio canale ad andare a vedere il video che abbiamo fatto sul canale di Carlo in cui abbiamo parlato di app e di apprendimento della lingua italiana tramite le app Carlo ti auguro di passare un buon Natale con Giulia o in Friuli o a Milano non so dove deciderete di stare e spero che tu questo video in cui ti prendi la multa non lo possa fare piuttosto voi troviate un modo di non prendere la multa ma di stare insieme grazie mille Simone, è stata veramente una bella chiacchierata sono contento di aver partecipato ad un video sul tuo canale e che dire, ne faremo tanti altri, no? certo, diciamo che sicuramente dopo Natale ci rincontreremo anche con un altro paio di amici youtuber e faremo un video tutti insieme, va bene? sì, assolutamente va bene, a presto Carlo, ciao mi ha fatto ciao Simone, grazie, ciao ciao